Sono molto orgoglioso e sono contentissimo che hanno scelto Bustarsizio per la loro festa. È un segno di riconoscimento che l'amministrazione in primis è io, ma tutta la città ne gioisce. È una cosa importante, loro sono sempre vicini a tutti noi, ci aiutano a vivere tranquilli, con la massima tranquillità tutti i giorni. Che cosa ha chiesto al questore? Non chiedo più niente, io so come lavorano, so quanto cuore ci mettono nel loro lavoro. Chiaro che noi avremmo sempre bisogno di uomini e mezzi, però io conoscendo la realtà so che quello che possono fare lo fanno già. Per cui io sono abituato a non chiedere più niente a loro perché fanno già tanto da soli e sanno cosa ci serve.